Eh? Perché sei tornato normale? Vuoi arrenderti? Niente affatto, è solo che vorrei spiegarvi come funziona il meccanismo di noi Saiyan in modo semplice e chiaro. Oh, Super, Super Saiyan, grazie e non disturbarti, se vuoi la verità non me ne importa niente. È interessante invece, guarda bene, come vedi ora sono nella mia forma normale. Adesso sono un Super Saiyan, mentre questo, guardalo bene, questo è il guerriero Super Saiyan che ha oltrepassato il limite. E si chiama Super Saiyan di secondo livello. Ehi, che razza di trasformazione è? Io non vedo nessuna differenza. E adesso? Cosa un Super Saiyan che supera ulteriormente il limite? Non può essere! Sarebbe di terzo livello! Secondo me Goku sta bleffando, è ovvio. Come può andare ancora oltre? Guardate! No, non posso crederci. Supereroe il limite del Super Saiyan di secondo livello! AAAAAA! Aaaaaaaaahhhh Aaaaahhhh Aaaaaaaaahhhh Aaaaaahhhh Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Non te l'aspettavo, eh? E questo è il Super Saiyan di terzo livello. Mi dispiace di avervi fatto aspettare un po'. Sapete, neanch'io mi sono ancora abituato.